Cosa puoi mangiare in una delle pizzerie più famose in Sicilia? Sono da Carmelo Pestritto a Favara perché ho visto che fa una pizza a forma di cannolo e adesso vediamo com'è. Questa non è una pizza normale. Uno, perché ha una forma di cannolo. Due, perché adesso lo vedrai. Gli ingredienti vengono da tutta la Sicilia. Dopo che la scorza è pronta, lo condiamo da un lato, mortadella di asina, pistacchio poi adesso passiamo dall'altro lato e mettiamo dei pomodorini rossi e gialli e per dare ancora più profumo andiamo a mettere pesto di basilico fatto in casa. Mamma che pizza! No, scusate, mamma che cannolo! Adesso mangiala e dimmi com'è. Paggo un amico con cui vorrei mangiarla da Carmelo Pestritto.